Qual è il ruolo di Puglia Startup nell'ecosistema? Puglia Startup è un'associazione che nasce nel 2006 quindi quando ancora il termine startup non era ancora di moda. Dal 2006 cerchiamo di diffondere la cultura di impresa sul territorio ovviamente partendo da Taranto per poi diffonderci su tutta la regione. Ci occupiamo di generare ecco valore alle imprese e lo facciamo ovviamente attraverso il network attraverso la rete ma soprattutto attraverso la cultura dell'open innovation. Noi crediamo che le imprese che siano grandi quindi dalle corporate alle PMA alle startup debbano comunque puntare all'innovazione aperta quindi uscire fuori da quella che viene considerata closed innovation quindi innovazione chiusa interna e cercare quindi di collaborare e di cooperare anche con gli stakeholder del territorio e quindi noi che siamo appunto un team di professionisti vari tra commercialisti, avvocati, ingegneri quindi professionisti dei vari ambiti dell'ambito imprenditoriale seguiamo le imprese e cerchiamo di transitarle nel futuro ecco nel futuro dei territori. Taranto Innovazione presente, scenari futuri? Taranto è presente, è passato ma è anche futuro quindi il futuro di Taranto è sicuramente quello di puntare alla contaminazione delle idee quindi alla cooperazione tra imprenditori, professionisti, cittadini e quindi basta uscire fuori dai ranchi della competizione e cercare di collaborare tra loro. Questo si può fare partendo da una città splendida, Taranto è una città bellissima dove c'è tutto, c'è il mare, c'è il buon cibo, ci sono le idee quindi perché solo contaminando le idee c'è questo contagio, a me piace parlare di contagio cioè contagiare visto che in epoche come dire di contaminazione pandemica è giusto parlare invece di contagi di idee dove l'innovazione rappresenta il vero antitodo, il vero vaccino per uscire fuori dalla crisi pandemica insomma dalla crisi imprenditoriale.